che ahhh wow vita è da un'ora che siamo sui poteri no, non ti sei sbagliato no, non ti sei sbagliato è vero no, non ti sei sbagliato no, non ti sei sbagliato stiamo già sbagliando che è successo? siamo morti grazie al lupo abbiamo perso tutti i poteri e ora come faremo? non lo so per esempio buttiamoli nella lava buona idea a che succede? guai nemici ci sono tre mondi due e tre luci noi dobbiamo ascoltare per ritornare nel mondo reale e queste tre luci proprio strana il primo regno dove siamo adesso? si chiama muspline il secondo regno si chiamerà amai e il terzo? nip line non sarà facile? io non credo vabbè adesso la furia delle banale nooo ma che succede? te l'ho detto abbiamo perso tutti i poteri l'unico l'unica cosa che possiamo fare è trovare queste luci e superare queste sfide sfide maledette bene in ogni sfida in ogni sfida ci ridarà un'energia solo che l'altra sfida è è una delle 10 giri di prova e quindi non ci hanno dato un cavolo l'abbiamo scoperto adesso solo una sfida solo una sfida scelta cioè uno slow motion cioè il tempo a rallentare ecco qua una ricompensa è mia è di pan pan ok dammela infatti è una mia energia vediamola ah perché non me lo fa non me lo fa più volte andiamo nella terza sfida siete già la terza eh beh sì vi ho fatto la prima quello che vi ho fatto con te bannita vi ho fatto la seconda adesso manca solo la terza ma respiro solo 100 immagina respirarla dal fondo della gola ah non ce la faccio oh wow è una cascata di lava non una colava ah allora siamo tranquilli ecco qua la terza sfida chissà quante ce ne sono forse ce ne sono oh no un'elite ci sta dando la caccia e chi ha questa l'elite? l'elite è barata occhio è vulnerabile aspetta un'idea lanciamoli questi addosso ok lo scudo se l'ha dato eccati questo ok allora bisogna lanciarli inizio addosso ok lo scudo dispiacerebbe morire stracce no facciare sempre due ok vai va fatto vai 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 si grande è proprio vicino alla porta si è preso grande si è preso si no no è un po' no 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 Anche questo c'è lo scudo eh Ora li dammi c'erano Spacchiamo anche il loro scudo Ok allora il loro scudo Era collegato a suo Nooo Anche lei ha lo scudo Ti spacco lo scudo Te lo spacco Capi questo Devo lanciarli lì Vai Pupan Si è morto uno Vai Pupan Stupido Vai Dey Vai Dey Vai Sì 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 Perfetto È per me Sì 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 Parti sotto Basterà metterelo in slow motion Infatto Ma questi sono zombie Bloccato vai 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 No Attento 3 su 5 Parti sotto Devo bloccare la gamma Devo bloccare la gamma Bloccata No l'ho bloccata si 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 No Concentrati Ok Ce la facciamo Oh no C'è un più tempo Abbiamo 3 minuti Vieni Maledizione Sono più scena Romani che volano No Hai detto Allora Dovremmo fare la figlia Dovemmo fare la figlia No Venite Mi da bloccali Bloccali Sì Uccisi Attenzione Sì Sì Grande Tuo Bloccalo Bloccalo Sì L'ho ucciso Che gambe Ci sono Lo bloccato Lo bloccato Lo bloccato Lo bloccato Lo bloccato Mamma mia Lo bloccato Lo bloccato Lo bloccato Lo bloccato Lo bloccato Sì Perfetto Concentratevi L'ultima ondata Oh no Oh no Che cosa Il burrone Oh no Dobbiamo prestare Molta più attenzione Ucciso Ah si è sposto Ok Complesso Se si è sposta Sì Dove sono da lui Basta solo Memorizzare Gli anelli Non mi ricordo Di là Di là Di là Lecine Fatemi soffro Lecine Vabbiamo le lecine Ah Sì Dove ho tre minuti Perché non si arriva da niente Fatti verso di King Kong Oh Sono pronto Sì 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 Facchiavola 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 No Io credo No No Ho giusto lo stesso Due minuti Venite Vaccarella Che c'è una vaccarella Sì Sì E per bananità Sì Che cosa hai preso Mo ve lo faccio vedere Sì Adesso Possiamo continuare Certo Tanosh Così sudate Che mi scivola l'alco A me prude il naso Oh no Migliorno di cominciare Che il Si No Grazie.